La Lucchese perde clamorosamente il recupero infrasettimanale contro Riccione, gara rinviata una settimana fa a causa del maltempo, una sconfitta pesante anche perché maturata contro l'ultima in classifica e dopo una prestazione assolutamente da dimenticare. Innocenti sceglie di giocare con un 4-4-2 che in realtà nel primo tempo è spesso un 4-2-4 e i risultati purtroppo si vedono non tanto per la potenzialità offensiva ma quanto per le vistose lacune in difesa. Vediamo la sintesi. Recuperato da Redomi, proprio in specie che va di nuovo all'impostazione, Carli di testa, ha provato la conclusione, la parata all'undicesimo, 18 giocatori in area e qui attenzione, Brega, Rete, Rete, Brega. Si è fatto male Casapieri e questo è un problema perché questo sarebbe un problema grosso del Riccione, attenzione palla in area e c'è il pareggio del Riccione, incredibile, incredibile come siamo riusciti a prendere il pareggio. Il problema meno complicato del previsto, attenzione ancora, mamma mia ragazzi, mamma mia, mamma mia, mamma mia, il 2-1 del Riccione. Il pallone nel mezzo e qui c'è una forza, è una trattenuta. Allora fuori Casapieri, dentro Babbini. Ora Brega, limite dell'area, Brega, la conclusione, non è granché. E qui c'è un fallo, attenzione perché è già ammonito, è già ammonito, è già ammonito, è già ammonito. Palla dentro a Liboni e qui ci mette la pezza al portiere. Oggi di applausi non ce n'è, ci sono solo fischi e improperi.